Sono arrivato qua da poco, sì, però mi sento già parte integrante di questo gruppo che è formato da uomini veri, da giocatori forti. Mi hanno tutti facilitato il mio ingresso in squadra, sono stati tutti eccezionali e di questo vi ringrazio. Secondo me siamo una squadra che ha tanti valori, penso che comunque anche Domenica con i Siena l'abbia dimostrato, perché secondo me abbiamo fatto una partita coraggiosa dove c'è mancato il gol e basta, perché comunque sotto il punto di vista del gioco siamo stati molto superiori rispetto a loro, che comunque vivevano di folate, di giocate individuali. Secondo me non dobbiamo avere limiti, perché comunque con il lavoro e con la dedizione e con il sacrificio si possono ottenere ottime cose e che soprattutto c'è dei grandi risultati. Quindi io sono molto ambizioso, credo nel lavoro, credo anche nella fatica e quindi penso che comunque questa squadra si possa togliere tante soddisfazioni. Noi comunque siamo una squadra che a livello offensivo anche durante la settimana lavora tanto, tantissimo. Io penso che più si cerca il gol, più lo si voglia, più lo si pensa e meno arrivi. È tutta una conseguenza naturale. Purtroppo capitano questi momenti nell'arco dell'anno che alle volte la palla sembra che non vuole entrare. Bisogna sempre pensare positivo, continuare a lavorare, cioè fare le nostre cose. Però, come vi ho già detto prima, io credo molto nel lavoro, cioè credo molto nella squadra e una volta che riusciremo a sbloccarci sotto questo punto di vista penso che potremmo essere ancora più decisivi e tutti noi attaccanti, come tutti i centrocampisti e tutti i giocatori, di levarsi comunque delle soddisfazioni personali a livello di gol e assiste. Grazie a tutti.